Allora siamo alla Lidl e stiamo vedendo se è uscito qualche cosa di nuovo e io volevo vedere se erano usciti gli scrub dovevano uscire gli scrub nuovi anche se ho visto che l'inji fa un po schifetto però adesso vedrò se prenderli o no e poi devono uscire le cose americane e adesso ci facciamo il giretto un enorme riparto di frutta secca mamma mia guarda è tutta frutta secca ma vedi mo li chiamano così non ci dia cagio le hanno messe tutte quante qua hanno fatto bene però perché così stanno tutte sì cos'è che ho detto cosa ma c'è la ferrugitrice se vi dovesse interessare il robot da cucina ma serio quando 20 euro robot da cucina questo qua ecco ci stanno gli accessori sì allora non sta scritto però amo che fa sto coso vediamo un poco tagliare grattugiare sminuzzare velocemente si è no no non frulla è solo per tagliare vedere che cosa abbiamo preso usando subito maggio pigliate sì l'infuso che aiuta ad eliminare la sensazione di confiore però è buono perché questo c'è pure la melissa quindi lo compriamo c'è anche melissa si per non far gelare amore ciao guarda è bellissimo ciao al sacchiotto 2 euro e 49 vi comprate tutto l'orzocchiotto adesso vediamo se è arrivata qualche cosa di nuovo perché quanto tempo è tanto subito che non facciamo il giro alle lite saranno buone due settimane forse di più perché ancora non mi arriva la macchina e quindi sto leggermente a pere come si suol dire se si ho già definito nella situazione della macchina nelle cose delle offerte queste dovrebbero essere così alle occasioni almeno 30 questa è carina come cosa solo che tengo già troppe cose per gentili chi ci sta il tappetino questo tappetino qua per fare per il fitness bene assolutamente grazie alle canottine ma ci sono pure i vestiti nel 30 per cento il vestitino blu hanno fatto bene per metterle queste cose questo che è un termo sono ti può servire tutte cose questo guardano ma vabbè tutti in quello elettrico noto non te la fai la barba tutte la stai coltivando per fare babbo natale l'anno prossimo giusto ok ci sono però queste cose bellissime per i bimbi guarda questo mi piace guarda praticamente la tuta intera come li porti tu così però sono belle eh lo so non ti piacciono di qua che ci sta se stanno la waffleriera cos'è questa cosa questo è per i toast questo è buono sì praticamente per mettere sotto vuoto le cose 18 euro sì questa cosa che cosa bello il portapasto di ernesto questa qua è carina molto carina solamente che morbida c'è poi non si rovina la cosa ragazzi volevo dire che queste strisce che ho preso l'altra volta per il viso sono ottime cioè sono veramente buone eh hai visto sono perfette proprio vi fanno male i cani quando tirate però questo sono quelle cose bio di nuovo migliavena senza parabeni senza shampoo ricette biologiche questo qua era bagno doccia no amore non mi serve poi li proveremo li proveremo qui no perché sto piena di shampoo ah vedi amore che hanno fatto vedi valeriana sono rilassamento no però è una cosa carina da tenere fammi vedere l'erbe del transito questo è indicato per i vigili per i vigili l'erbe del transito eccolo qua ah c'è anche vedi olio di pesce omega 3 magnesio pappa reale fermenti lattici a 3 euro no ottimo mi hanno messo molte cose diciamo più medicali come si dice no no hanno cambiato le altre cose però queste che sono le amore trovi qualche salviettina in offerta mi servirebbero delle salviettine però non non mi piacciono queste qua cioè mi piacciono come qualità però non tengono qualcosa che si chiude 89 centesimi ma quanti ce ne stanno 20 che dici me piglio e per no va boia perché no perché ne trovo pure viene più grandi pure se spendo un poco di più però vendito poche costume di superman maschietto e c'è anche super girl beh se bene acqua ci sono tutte le cose americane nuove perché l'hanno riproposta come i peperoni ogni tanto si ripropone ma vedi amore ci sono queste volevo provare io bat milk vanilla questo qua è per mettere è da bagno praticamente e poi che ci sta vaniglia mango e papaya però mango e papaya sono i sali dal bagno sali dal bagno oh amore guarda sono ritornati allora questi sono gli scrub vedi amore questi sono tutti gli scrub allora vediamo un attimo perché questi qua fanno schifo come inci e sinceramente se maggio via sta cosa perché c'è sta paraffina liquida al primo posto anche se vabbè giusto per farvi vedere che tipi di cose ci stanno poi ci sta che altro ci sta vediamo questi qua quando voi mi chiedevate se ritornavano sono ritornati sono ritornati allora vediamo che ci sta molto io ce ne ho due c'è mango infatti mango mi sa che me lo vorrei pure prendere perché non l'ho preso l'altra volta cocco cioè io c'ho cocò e mi mancava mango e mi sa che me lo prendo cocco ce l'ho sì ma vi durano una vita queste cose qua vi giuro cioè sono sono meraviglioso questo poi tra l'altro questi qua invece come inci sono un pochettino migliori rispetto a allo scrub e poi mi voglio prendere questo siamo questo qua è un bagno per mettere quando ti fai il bagno diventa tipo bagno schiume capito è così vabbè lo posso usare pure per fa tipo scrub sulla pelle capito comunque le voglio provare e poi ci sono è bello devo vedere che profumo e poi ci stanno sì i tre di bombe per il bagno e invece di pensare a sta roba giustamente guarda a cavo ma non basta basta madonna mia i brownies no i brownies no vi prego vediamo il cenno via via quel vestito da carnevale oh che bello vuoi questo ti si addice vabbè te lo compriamo e magari a me girano così ma fa migliere quelle da bimbe che ci stanno quanto è carino questo questo è proprio bello altra volta non ci stavano questo no non ci stavano a carnevale dell'anno scorso erano rimasti solamente quelle più classici le parrucche stavano pure le parrucche amore questa va acquistata subito c'è da poter svegliamo da trovere a 5 euro e 99 a moia e l ci stanno qua stanno buttate per dentro vediamo quest'altra ora su tutto è bella questa acqua blu forse la più bella così poi c'è nera così e che bella questa è però non si legge che sta scritto birra riesce a leggere not nel tempo resolution non sta scritto c'è non riesco a legge preciso qua perché il bello ha capito se è quello classico e ci stanno pure un'altra volta i cosi di batman di spider man non c'era spider man e ho capito però ma mi stavolta ci stanno tantissime cose star wars ma per le femmelucce non li fate questi è un secondo vediamo è amo perché forse l'hanno messo ok ok c'è 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 quale noi volevo il pantalone noi leggo volevo il pantalone così vede questo che cosa m stanno in affetto veramente belle si le ho visti ma addirittura ci sta sassi in grido guarda ecco che riguardo c'è una figata pazzesca mamma mia oggi ci sta di roba veramente mamma ma lo vuoi veramente è tutto di nuovo letto singolo amose non vi chiesto pigli quella subito e snoopy ma devo prendere il pantalone t shirt ma sai che a nonna serviva una cosa tipo questo magliettina su piccolo questo è intimo c'è il puzzle di frozen e c'è anche questo bellissimo zainetto amore me lo compri per l'università mannaggia no a lenzuola bello preset di lenzuola copri più o meno singolo 12 e 99 amore guarda oddio quant'è carino sì questo ce l'ho già no essi simile nel terponi ecco se su sapeva voglio io magno perché non mi mettete una xl cortesemente o no queste ne volevo quelle amore volevo quella del terpone non rondere e stavo facendo anche la rima amore cosa c'è qui si è bello questo ma questo è matrimoniale uno e singolo è vero perché non li fate così matrimoniale signore della lidl a me serve matrimoniale por favore belli però amici salve salve amici abbiamo fatto il nostro giretto sono dicendo sembrò proprio tipo sparaflesciato nel cielo e niente abbiamo preso delle cosine e poi ho preso sono riuscita a prendere la fel passando su e poi ho preso vabbè faccio vedere giusto così il burro questo qua poi magari ve ne parlo in un altro video in un blog non lo so ho preso quel cosino per fare per il bagno da bai non riesco a farle vedere perché c'è talmente tante cose sulle mie gambe e ho preso il nuovo volantino così poi ve lo faccio vedere caso mai se vi fa piacere vi faccio un video per far vedere vedere le prossime uscite che saranno dal 29 al 4 di febbraio ci sta un sacco di roba infatti perché tanto subito perché tu non parli con usando subito ha detto di che c'è un sacco di roba e va bene quindi poi lo guardiamo però con calma insieme se non sto video diventa lunghissime voi non mi potete più sopportare e allora io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video ciao ciao